Al palatricoli vince la Sigma Barcellona Pozzo di Gotto, con impresse in calce le firme a caratteri d'oro dell'accoppiata Collins-Filloy, per il primo 26 punti, 4 su 8 dalla lunga e 9 assist, per il secondo 31 punti ed un eloquente 7 su 12 da 3. In due, con la vendemmia dall'arco del terzo quarto, portano all'inerzia della gara su sponda Sigma, nonostante un finale in cui Iesi sfiora il rientro dopo essere stata a meno 13 al 34esimo, ma senza concretizzare la rimonta fino in fondo. Nel primo quarto era stata Iesi a toccare il più 11, 13-2 prima del time-out di Perdichizzi, con rientro e break 0-7 Sigma, al decimo 17-15, alla ripresa tripla di Collins e primo sorpasso Barcellona. Perdichizzi ha contributi importanti da Pinton, Iesi ribalta tutto con Jukic borsate e va sul 35-28 al diciassettesimo, al ventesimo 39-35. Al rientro subito tecnico, prima a Maresca e poi alla panca Sigma. Dopo 1-40 ai terzo quarto, Barcellona ha esaurito il bonus di falli di squadra, dopo 2-30 bonus salutato anche da Iesi. Ma chi saluta e se ne va è la Sigma. Filloi raccoglie i confetti di Collins e li trasforma in tripla ripetizione, 4 su 5 nel terzo parziale. La fila di BPA prova a rispondere con borsato, ma Collins ha un altro passo. Iesi d'orgoglio ricuce al trentesimo, 63-67. L'ultimo quarto sembra storia scritta, quando Filloi e Collins si passano la staffetta al tiro da 3 ed è 66-77 Sigma, per toccare subito dopo il più 13. La fila di BPA perde Maggioli per il quinto fallo, ma trova Santiangeli a trascinare la risalita. Parziale di 5-0 e gioco da 3 perfezionati in lunetta, 79-83. Break di 11-4 Iesi, gli ospiti reagiscono con Collins e sul quinto fallo di Young la fila di BPA è a meno 3, 84-87. Goldwire però si fa sfuggire palle in attacco ed anche se Santiangeli da 3 fa meno 2, 87-89. Filloi dalla lunetta non lascia speranze, 87-91.